Oggi su Final News, calcio a 5 e calcio a 8. La C1 sempre sotto l'occhio del CT Albani. Salvezza, in due salutano la categoria. L'Eurobet Palermo al secondo 2-2 consecutivo attende il Mr. Jeff in Coppa. In più gli highlights di Serie A ed A2 della Lega Calcio 8. La C1 sempre sotto l'occhio del CT Albani.